Sicurezza, il cuore del lavoro, è il tema scelto dai sindacati confederali CGL, CISL e UIL per celebrare quest'anno la giornata del 1 maggio, festa dei lavoratori. Come da lunga tradizione si terrà, a livello di versile storica, una cerimonia unitaria che interesserà i comuni di Seravezza, Petrasanta, Stazzema e Forte le Marmi e che avrà luogo a Seravezza martedì mattina. Il concentramento delle autorità e dei cittadini sarà a 9.30 in via Campana davanti alla sede sindacale. Da lì, accompagnato dalla filarmonica di Riomagno, il corteo attraverserà il centro cittadino per raggiungere prima il cro di Riomagno, poi il monumento ai caduti sul lavoro e il cippo dedicato a Vasco Zappelli, dove saranno deposte due corone dall'oro. La manifestazione si chiuderà in piazza Carducci con il saluto delle autorità comunali della versile storica e il commizio tenuto, a nome della triplice sindacale, da Fabrizio Simonetti, segretario organizzativo di CGL Lucca. La presidenza del Consiglio Comunale di Seravezza invita la cittadinanza della Versilia a una folta partecipazione. Le celebrazioni del primo maggio riportano quest'anno al centro dell'attenzione il drammatico fenomeno degli infortuni e delle cosiddette morti bianche, sottolineando giustamente come il tema della sicurezza sia fondamentale per il mondo del lavoro. Questo dichiara il presidente Riccardo Biagi. Meno di un mese fa, proprio a Seravezza, la regione toscana ha presentato i risultati del piano straordinario per la sicurezza nelle cave, avviato lo scorso anno nel distretto lapideo Apoversiliese. Se da una parte è emerso che negli ultimi dieci anni gli infortuni in cava sono complessivamente diminuiti, sappiamo anche però che sono aumentati quelli mortali, dieci dei quali avvenuti tra il 2006 e il 2016 proprio nelle cave delle Apuane.